Ciao a tutti amici di VGN, io sono Giovanni e bentornati in questo nuovo video su Destiny 2 dedicato interamente alla novità in arrivo con il secondo DLC, la mente bellica. Nell'escorsi ore si è tenuto un live stream in cui Bungie ha finalmente mostrato il primo trailer ufficiale dell'espansione, presentando la nuova location, che sono le calotte polari di Marte, e il personaggio che incontreremo nell'avventura, Anna Bray. Nel materiale fornito alla stampa sono arrivati anche nuovi dettagli su quelli che saranno i nemici che affronteremo nel corso dell'avventura, i boss dei nuovi assalti come Nocris e il nuovo loot che otterremo nell'espansione, tra nuove armi leggendari a Temerasputin e tutte le esotiche che saranno disponibili nel DLC. La mente bellica come detto ci porterà a conoscere Anna Bray, cacciatrice scomparsa dopo la battaglia alla breccia del crepuscolo, ora in cerca di legami col suo passato, che crede perduto per sempre tra i ghiacci di Marte. Il pianeta tornerà dal primo Destiny in una nuova porzione di mappa ambientata nelle calotte polari, chiamata Bacino di Hellas. Questa nuova area esplorabile includerà una nuova storia e avventure, con i warsat dell'età dell'oro che stanno distruggendo la superficie e sciogliendo gli acciai, rivelando il lucchio di Rasputin un antico esercito dell'alveare deciso a distruggere la mente bellica. Questa nuova divisione dell'alveare è al servizio del diok Sol, già menzionato nei libri del dolore e dei destini, il re dei corrotti, e convolgerà un'altra figura come Nocris, una divinità dell'alveare che era già stata citata nell'ultima missione dell'espansione, Regicidio, al fianco delle statue di Oryx e Crota. Come quest'ultimo, anche Nocris è un principe dell'alveare e dopo le speculazioni sul possibile rapporto di parentela con Oryx, sembra ormai probabile che si tratti di un altro figlio del re dei corrotti e dunque del fratello di Crota. Nocris sarà protagonista di un assalto introdotto col nuovo DLC, di cui parleremo tra pochissimo. Su Marte esploreremo nuovi scenari come il centro futuristico Bray, una struttura di Clovis Bray che durante l'età dell'oro era un centro d'eccellenza per la tecnologia Exo e il progresso della stessa civiltà umana. Probabile che in quest'area, in cui troveremo Anastasia Bray, ci sia modo per scoprire i segreti rimasti sepolti dopo il crollo e chissà anche il legame tra Kate 6 e Rasputin. E proprio Rasputin, la più potente intelligenza militare mai creata, svolgerà un ruolo fondamentale in questa espansione. Progettato per proteggere l'umanità durante l'età dell'oro, Rasputin è stato più volte menzionato sin dai tempi di Destiny ed è citato continuamente nel suo sequel, ma non è stato svelato per quale motivo la mente bellica si trovi contemporaneamente sia nell'antica Russia che nel bacino di Hellas su Marte. Il pianeta rosso ospiterà una nuova attività PvE chiamata protocollo di intensificazione che potrà essere attivata liberamente durante le pattuglie e richiederà un livello consigliato di potere 380. Si tratta di una sorta di orda caratterizzata da 7 ondate a difficoltà crescente, durante le quali avrete un determinato lasso di tempo per uccidere i nemici dell'alveare e completare particolari obiettivi. Alla terza e quinta ondata dovrete fronteggiare dei nuovi boss mentre alla settima e ultima ondata vi troverete ad affrontare un boss unico che ruoterà di settimana in settimana, fornendo del loot esclusivo. In totale saranno 5 i boss differenti che Bungie ha realizzato per questa modalità, con almeno 5 pezzi di equipaggiamento esclusivo che potrete ottenere nelle prime 5 settimane. Non sappiamo però se ci saranno altre sorprese da scoprire e ottenere con nuove quest segrete. Ciò che sappiamo è che tramite questa modalità potrete ottenere armature e armi leggendari a tema Rasputin, molto suggestive e accattivanti che includeranno finalmente perk esclusivi per competere al meglio in questa modalità. Si tratta di un gradito ritorno da parte di Bungie che ha finalmente compreso l'importanza di questi elementi per rendere l'endgame nuovamente rilevante. L'espansione incrementerà il level cap fino al livello 30, portando invece il livello di potere fino a un massimo di 380 o 385 utilizzando le mod. Dal momento che questa attività si pone tra le più difficili dell'endgame, Bungie ha deciso di dare ai giocatori la possibilità di sfruttare dei mezzi offensivi più efficaci nei momenti nevralgici delle orde. La prima è un gradito ritorno da Destiny l'Oscurità dal profondo, ovvero la spada dell'alveare che potrete utilizzare uccidendo i nuovi cavalieri tuttati di scudo. La spada avrà munizioni limitate e includerà anche la consueta supermossa che potrete utilizzare per sfoltire le fila delle nuove unità ghiacciate dell'alveare. Ma la vera novità è un'altra, si tratta di una lancia, o un giavellotto se vogliamo, a tema mente bellica chiamato Valkyria. Questa speciale arma manufatto sarà ottenibile utilizzando delle risorse speciali che troverete nelle casse al termine di ogni ondata e permette di richiamare per pochi istanti il Valkyria per uccidere velocemente i nemici. Potrete lanciarla a distanza, colpire gli avversari a corto raggio o persino scatenare un devastante colpo che distruggerà tutti coloro si trovino nell'area di impatto. Il Valkyria sarà protagonista di uno degli assalti introdotti con questa espansione, chiamato Volontà dei Mille e ambientato su Marte. In questo assalto la rete neurale di Rasputin sarà sotto l'attacco dell'alveare e dovremo distruggere un enorme cavaliere sfruttando il giavellotto della mente bellica. Come dicevamo in precedenza, Nocris sarà protagonista del secondo assalto incluso nel DLC, che sarà intitolato Terreno Insolito e ambientato nelle gallerie sotto il bacino di Hellas. In questo assalto dovrete affrontare il fratello di Crota nonché messaggero del Dioxol e fermarlo prima che riesca a trasmettere il suo potere alla divinità larvale dormiente. Come nel caso della maledizione di Osiride, Nocris sarà presente anche nella storia in una versione ridotta e più accessibile dell'assalto Terreno Insolito, che ovviamente sarà disponibile all'interno della playlist Assalti dell'Avanguardia e della sua variante ironica. Ci sarà inoltre spazio per un terzo assalto, il cui nome non è stato ancora annunciato da Bungie, che sarà disponibile solo per gli utenti PlayStation. In questo assalto i cabal tornano a protagonisti con la presenza di una mente Vex che ha in qualche modo infuso il suo potere all'interno di un opzionico, che sarà probabilmente il boss finale. Questo assalto sarà disponibile in esclusiva su PS4 e permetterà di ottenere un nuovo set di armature, anche in questo caso solo per gli utenti Sony, disponibili per ciascuna classe. Tra le novità dell'espansione torneranno anche eventi pubblici come la difesa dei Warsat, presenti in primo Destiny e inspiegabilmente rimosti nel sequel. Tra le immagini presentate alla stampa spicca inoltre il deposito dell'età dell'oro, al cui interno ci sono dei simboli olografici che sembrano potenzialmente utilizzabili per accedere a una sorta di impresa. Che si tratti della quest segreta per riottenere il progetto del devastante simulatore dormiente? Sì, perché tra le immagini mostrate da Bungie c'è anche una foto sospetta in cui si può scorgere un fucile a fusione molto simile all'arma esotica del primo Destiny, che fu introdotta proprio con il re dei corrotti. Non è da escludere dunque che Bungie abbia in serbo il ritorno di quest segrete dopo le critiche da parte della community. A proposito di esotiche, Bungie ha mostrato alcune delle armi e armature che potrete ottenere in questo DLC, tra vecchi ritorni come velo dell'apoteosi, armamentarium, impugnature sigilate dai Amkara e il fucile Suros Regimen, e novità come la mitra di Attack al Barry, di cui potete scoprire i perk su Gentile Concessione di More Console. Le armi esotiche però saranno potenziabili con nuovi oggetti sulla falsariga delle armature prestigiose al fine di renderle ancora più interessanti, ma al momento non sappiamo perfettamente come funzioni questa novità. L'espansione includerà anche due nuove mappe del crogiolo mostrate da Bungie durante la diretta, che saranno comunque accessibili da parte di tutti i possessori di Destiny 2 in seguito alla decisione da parte della software house di cambiare il funzionamento delle stagioni. Per poter accedere alle due mappe nelle partite private, una delle novità che saranno introdotte con la terza stagione e l'update 1.2.0, sarà però necessario acquistare il DLC 2 e la mente bellica. Lo stesso DLC sarà richiesto per accedere alla nuova attività in game protocollo di intensificazione e al nuovo covo dell'incursione chiamato Pinnacolo Siderale, che ci porterà nuovamente nella pancia del Leviatano per affrontare un nuovo boss su invito di Kalus. Per il momento è tutto, l'appuntamento con Destiny 2 e la mente bellica è fissata all'8 maggio, quando il DLC sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One insieme alla stagione 3 e a tutte le novità della patch 1.2.0. Il DLC è incluso nel pass espansioni, o acquistabile separatamente al prezzo di 19,99€ su tutte le piattaforme. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao a tutti amici di VGN e dal vostro Giovanni Marrelli.